oppure noi abbiamo usato pizze anche quando un po' avevamo già cominciato a fare le coliche cioè non è che subito va coliche subito abbiamo una casa un lavoro quindi c'è stato un periodo di transizione coliche pizze quindi vedi questa gente che ti apriva la porta e faceva ma come è possibile? un ghip della tua portata ma che ci fai qua? ma c'è una margherita una capricciosa ma tu sei pieno di soldi no non è così ragazzi ti devo portare io la pizze aspetta vai a casa tua e te la porto tieni la tua pizza e dammi la mancia